Adesso passo la parola a Silvana De Nicolò, un'altra nostra consigliera regionale in Commissione Ambiente. No, va bene, adesso ve lo spiega lei anche in Commissione Apposta. Apposta l'abbiamo portata fin qui, chiaramente. Vai Silvana. Buonasera a tutti, veramente un piacere essere qui. Grazie a tutti e tutte di questa partecipazione veramente così consistente. Ringrazio chi ha parlato prima di me, qualcuno me lo sono perso, la mia capogruppo, Valentina, che ha parlato prima di me. È già la quarta capogruppo in Regione Lazio da quando ci siamo insediati. La situazione nostra è piuttosto dura perché ovviamente entriamo in una regione dove è inutile che io ve lo dica, insomma l'avete sentito detto tante volte dai nostri portavoce, tutto si muove per non cambiare nulla di fatto. Per cui le forze a destra e a sinistra si compensano al fine di mantenere le cose così come stanno. Noi siamo entrate come una specie di scheggia impazzita e abbiamo subito cominciato a seminare quello che noi pensiamo siano appunto i semi del cambiamento. E tante volte ci sentiamo dire che siamo dei folli, che siamo dei visionari, che vediamo cose che non ci sono. Però noi andiamo avanti. Questa cosa è successa anche sui fondi europei. Adesso brevissimamente ve lo spiego. Volevo solo aggiungere riguardo a quello che ha detto Valentina Corrado, la mia collega, che è proprio recentissima la notizia che la Giunta regionale, insieme ad una parte delle forze politiche, in particolare il PD, si sono impegnati a portare avanti un discorso che noi già avevamo intrapreso e anche con loro, però si sono impegnati ufficialmente davanti a dei lavoratori a portare avanti il discorso del reddito non di cittadinanza, ma un reddito minimo garantito. Nel Lazio esisteva già una legge, che è la numero 4 del 2009, che era una legge che era stata promulgata dal Presidente Marrazzo, che però non era più stata rifinanziata ed è stato un bene, perché era una legge che non era fatta benissimo, infatti questi soldi non erano andati veramente a chi dovevano andare, a sostenere chi dovevano sostenere. Invece qua c'è tutta l'intenzione di portare avanti un discorso che, mi permetto, a modello di quello che è il nostro discorso sul reddito di cittadinanza, poi, no? Quindi un reddito minimo garantito per i cittadini del Lazio, che consenta di spostare le risorse da quelli che sono gli ammortizzatori sociali e tutte le altre misure assistenziali di sostegno, di spostarle verso delle politiche, diciamo, attive del lavoro, perché la Regione ha competenza sulle politiche attive del lavoro, non ne ha su quelle passive che sono appunto statali. Però sulle politiche attive del lavoro, con quei soldi, possiamo fare tante più cose e, diciamo, con questo reddito minimo garantito, naturalmente con la fase 2, che è sempre quella dei centri per l'impiego che si devono attivare, dove i cittadini possono rivolgersi appunto in una profigua ricerca del lavoro, è un sistema che si sta creando, si sta mettendo in piedi, su cui noi stiamo puntando molto e noi combatteremo affinché tutto si svolga nella debita a trasparenza e con la forza di quello che realmente serve ai cittadini di questa Regione. E poi, brevissimamente, un paio di altre cose rispetto a quello che abbiamo fatto noi in Regione. Di recente siamo riusciti a far passare una nostra proposta di legge sul registro dei tumori che non è un argomento molto allegro, però è molto importante perché mette in relazione le casistiche delle malattie con gli insediamenti di qualsiasi genere sul territorio, quali quelli industriali, le varie fonti di inquinamento e quindi darci anche un database o una risposta molto concreta anche di cosa si può fare per interagire tra le varie competenze sanità, ambiente, urbanistica e quant'altro. E poi un'altra proposta di legge che è passata sull'abolizione di un'agenzia dei trapianti che era a dir poco inutile. Al momento io sono in due commissioni che sono tutte e due, a me piacerebbe stare nella commissione ambiente, dico la verità, però sono due commissioni economiche, tutte e due e una è quella dei fondi europei, però c'è anche la cooperazione tra i popoli quindi è abbastanza interessante i diritti dei consumatori e l'altra invece è quella di lavoro, attività produttive, ricerca, sviluppo, innovazione, formazione professionale, quindi è molto incentrata sui temi del lavoro e delle attività produttive. In questo ambito, nella commissione, quella dei diritti dei consumatori, siamo con una nostra proposta di legge in discussione, in commissione, i tempi sono lunghissimi, però vi faremo sapere quanto prima come andrà questa cosa. Cosa dire sui fondi europei? C'è da dire una cosa molto importante, che adesso stanno partendo tutti i bandi finalmente per il nuovo settennato 2014-2020, che parte in ritardo come sempre, si concluderà in ritardo come sempre, ma tanto qua di puntuale non c'è mai nulla, tutto tranne le prebende di questi signori della Cassa, scusate ma io ci devo infilare dentro qualcosa di politico, perché se no non si riesce neanche a capire di che cosa si sta parlando. E comunque, sui fondi europei è stata una battaglia fin dall'inizio. Come dicevo, loro ci hanno visto come dei marziani, ci hanno visto come dei pazzi, perché? Semplicemente perché i fondi europei ogni volta arrivavano, le forze politiche discutevano, se li dividevano o comunque si dividevano le varie competenze, andava bene così, tutto così. Tranne che l'Europa ci dà dei compiti molto importanti, infatti meno male che c'è in certi casi, e ha stilato dei codici di condotta molto, molto importanti, a cui ci dobbiamo attenere necessariamente, pena l'invalida dei processi che stiamo seguendo, e uno di questi è il codice di condotta del partenariato. Cosa significa? Il partenariato significa che tutti i cittadini, fino dal momento delle prime, le primissime linee guida sui fondi europei, e quindi decidere più o meno se si vuole puntare all'ambiente, alla cultura, all'istruzione, a qualsiasi cosa, fin dai primissimi momenti il cittadino sotto forma di associazioni di categoria, associazioni to core, sindacati, qualsiasi tipo di... e naturalmente anche le amministrazioni locali, quindi comuni, municipi, eccetera, sono invitati a partecipare a questo processo, che va avanti, stila delle linee guida, dà dei dettami un po' più dettagliati, e prosegue così, fino alla verifica degli obiettivi, e alla verifica dei risultati, perché non è quello a cui puntiamo, cioè l'obiettivo è preso, sì, ma il risultato qual è? È quello che dobbiamo andare a cercare. Per cui, io vi dico solamente, vi do un paio di dritte, una è quello del sito Open Coesione, che è un sito che è stato voluto da una persona del PD, ma è una persona rispettabilissima, si chiama Fabrizio Barca, è stato anche ministro, è una persona che ha voluto questo sito per rendicontare tutto quello che succede sui fondi europei. Quindi noi possiamo andare, verificare la nostra regione, anche per comune, attenzione si può fare, quanti soldi sono stati spesi, questo è riferito alla passata programmazione, come sono stati spesi, cosa non è stato speso, perché mi dicono gli assessori, recentissimamente, che già alcuni bandi stanno andando deserti. Questa cosa è incredibile, è una cosa inaccettabile, perché noi abbiamo, come Lazio, 4 miliardi e 400 milioni dall'Europa, che non sono altro che soldi dei nostri contributi, pagati, versati, che sono, la maggior parte delle volte, raddoppiati dalle amministrazioni. Ora Lazio, essendo una regione, insomma, che ha traschiato il fondo del barile, non sta mettendo il doppio, sta mettendo qualcosa tipo il 17%, però comunque è una somma di tutto rispetto che appartiene ai cittadini, e i cittadini e le imprese se la devono riprendere. Quindi, per conoscere i bandi, basta andare sul sito della regione Lazio, ed in particolare cercare il link Lazio-Europa, dove dentro c'è tutto, ci sono i bandi, le spiegazioni, quant'altro. E poi credo anche, poi magari Fabio Massimo ci potrà dire anche qualcosa in più, anche sul sito di Formez, credo che ci siano vari dettagli sulle modalità di accesso a questi bandi, e comunque noi ci siamo sempre, purtroppo le nostre forze non ci consentono di impiantare un vero e proprio sportello, o un sito dedicato ad agevolare i cittadini e le imprese nell'accesso ai fondi europei. Però gli strumenti informativi, anche se a volte sono un po' nebulosi, ci sono tutti, quindi io vi invito ad andarle a cercare, andare a vedere, e questi bandi sicuramente se si seguono i dettami dell'Europa non si sbaglia. E lascio spazio a chi viene dopo di me. Grazie. 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 Grazie.